Il comune di Sarmo ha scommesso da tempo sulle partecipate una rete creata di sinergie e collaborazione davanti alla scelta negli anni passati di esternalizzare servizi che l'ente in realtà aveva difficoltà a gestire e quindi nella nuova ottica avviata ormai da anni oggi si raccolgono ancora i frutti del lavoro sul territorio su servizi indispensabili per la città. Si parte dall'aspetto sociale con la collaborazione con AgroSolidale e quindi al centro minori, famiglie, donne vittime di violenza, nuclei familiari con disagio economico fino ad arrivare alla Sarno Servizi Integrati, l'azienda speciale che si occupa di garantire servizi pubblici quali la gestione delle aree di sosta a pagamento, la manutenzione degli immobili comunali, di arterie stradali, gli impianti sportivi e servizi cimiteriali. A fare il punto della situazione è l'assessore al bilancio e dalle partecipate Francesco Squillante. Diciamo che il comune di Sarno già da moltissimo fa parte di una serie di partecipate come quello del Consorzio AgroSolidale che è composto da quattro comuni e che ha sostituito l'ex piano di zona. Facciamo parte di AgroSolidale insieme ai comuni di San Valentino, San Marzano e Pagani. Pagani e Capofila, noi siamo inferiori di circa 2000 abitanti quindi il comune Capofila è Pagani e la sede si trova a Pagani. Poi abbiamo il COFASER che è il consorzio farmaceutico delle farmacie comunali di Sarno, poi abbiamo l'agenzia Valle del Sarno e abbiamo da poco costituita la Sarno Servizi Integrati, anche se molti credono che sia nata tanti anni fa per cui ci sono molte volte delle lamentele, però come qualsiasi azienda che parte bisogna dargli il tempo giusto per dimostrare che i risultati si vedono. Ci sarebbe ancora tanto ma tanto da fare perché nonostante tutto e nonostante la capacità di riuscire a reperire a un bilancio di circa 11 milioni l'agro solidale non bastano anche e soprattutto in questo momento di difficoltà, però cerchiamo di dare i servizi alla nostra comunità che possono essere l'assistenza domiciliare per gli anziani, per i soggetti diversamente abili. Abbiamo il trasporto urbano del nostro territorio che va verso l'ospedale, che mette in collegamento le frazioni con l'ospedale e il centro del paese e lo stesso cimitero. Abbiamo sul nostro territorio in questo momento la possibilità dei campi estivi dove possono partecipare sia aziende, sia enti del terzo settore ma anche società che già svolgono attività in questi settori. Cerchiamo di fare tutto abbiamo una casa rifugio per le donne vittime di violenza, attualmente la nostra è occupata da una serie di famiglie. Cerchiamo di fare il massimo, gli anziani, sugli anziani noi cerchiamo di dare il contributo con il centro polivalente, cerchiamo di dare il massimo ma non basta perché comunque nel sociale c'è sempre tanto da fare. I vizi sono tanti perché in passato noi quando qualcuno dice il comune prima li faceva il camune, no, il comune non riusciva a rispondere a quelle che erano le esigenze, infatti più delle voci ci andavamo a rivolgere verso l'esterno. Vedessi la sosta a pagamento che deve crescere molto di più rispetto a quella che con cui sta crescendo e con cui è partita. Però il cimitero, la gestione delle lampade votive, sono tutti servizi che potrebbero essere svolti in house nel momento in cui la società, la Sarno Servizi, riuscirà ad arrivare al fabbisogno che è stato programmato di circa 30 unità. In questo momento per sopperire a determinate esigenze comunque la Sarno Servizi si affida a soggetti terzi. Abbiamo l'agenzia Valle del Sarno che sta completando la zona PIP in sinergia regione-comune-agenzia e nonostante tutto, nonostante le difficoltà che abbiamo vissuto negli anni passati, abbiamo il consorzio farmaceutico che è inutile e che sta abbassando notevolmente il patrimonio netto negativo. Grazie a tutti.